Ciao, benvenuto nell'editor di SuperSite. Da qui potrai creare il tuo fantastico sito web. Per iniziare, clicca sull'icona più in alto a sinistra e avrai così accesso a tantissimi componenti da aggiungere al tuo sito. Ad esempio, testo, media, forme, menu, pulsanti e poi anche contatti, e-commerce, blog, booking e molto altro ancora. Sono tutti elementi che puoi inserire e modificare a tuo piacimento. Puoi anche aggiungere gruppi di elementi attraverso le sezioni presenti nel menu a sinistra della tua area di lavoro. Oppure cliccando sul più tra una sezione e l'altra nel corpo del tuo sito. Modificare i componenti è semplicissimo. Clicca ad esempio sull'elemento testo e personalizzalo a piacere. Puoi cambiare lo stile, il colore, la dimensione, il carattere e molto altro. Clicca e trascina gli elementi per decidere come posizionarli all'interno del tuo sito web. Grazie all'intelligenza artificiale integrata su Supersite, potrai creare dei fantastici testi. Sarà sufficiente scrivere qualche riga descrittiva per generare incredibili contenuti. Infine, clicca su Pubblica in alto a destra per salvare le modifiche apportate. Come hai potuto vedere, creare un sito è davvero facile. Non ti resta che provare e dare sfogo alla tua fantasia.